Pronta per allenare il tuo core? I 4 esercizi che facciamo in questo video bonus sono Hill Touch, Twisting Windmills, Side Plank, Right and Left Imposta il tuo Interval Timer con 30 secondi di lavoro, 10 secondi di pause e 8 round Alleniamoci insieme Andiamo a toccare le nostre caviglie Sulla testa, mi raccomando, lavorano gli addominali e non il collo, quindi il collo deve essere rilassato Lavorano gli addominali obliqui Quindi contraiamoli Ok, sto sempre con la schiena a terra Braccia aperte Gambe dritte E le porto in laterale Piano Così lavoro molto bene gli addominali Cerchiamo di non sforzare le braccia Ma l'addome Dai, ancora pochi secondi Sempre sul tappetino Posizione di plan con i gomiti a terra E portiamo il gomito al ginocchio Sempre dallo stesso lato Minali ben contratti e schiena dritta La testa guarda in basso Forza, pochi secondi Mi rilasso un attimo E riparto Con l'altra gamba Mi raccomando Respiro Movimento controllato Dai Resisti E ripartiamo col secondo round Andiamo a toccare ancora le caviglie Tocco bene le caviglie Sentite che gli addominali lavorano Devono bruciare Non mollate Dai Ok Rimango sempre sdraiata Gambe su Controllo il movimento Quindi controllo le gambe che vanno giù E tornano su Respiro Respiro Dai Ancora pochi secondi Resisti Resisti Ok Dai che ci mancano altri due esercizi E poi abbiamo finito Gomito al ginocchio Gomito al ginocchio Controllo il movimento Forza 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 Pochi secondi ancora Dai che ce la fai Ok Pronte per l'ultimo esercizio Pronte per l'ultimo esercizio Addominale contratto Così non mi sbilancio Così non mi sbilancio Forza Forza E' Per un po' Per un po' E' Per un po' Grazie.